Un fisiologico avvicendamento? Così lo ha definito il sindaco di Cosenza Mario Chiuto il primo mini rimpasto di giunta che vede entrare al posto dei dimissionari Vittorio Sgarbi e Padre Fedele, Francesco De Cicco e Michelangelo Spataro, due dei sei consiglieri comunali di maggioranza che nei mesi scorsi si erano mostrati critici su alcuni provvedimenti, arrivando persino a disertare alcune sedute del Consiglio Comunale. Ai due nuovi assessori il sindaco di Cosenza ha assegnato per quanto riguarda Francesco De Cicco la delega partecipazione frazioni e quartieri, manutenzione delle strade della rete idrica, mentre a Michelangelo Spataro è stata assegnata la pianificazione urbana e mobilità sostenibile edilizia privata. Al posto dei due neoassessori in Consiglio Comunale subentrano Pasquale Sconosciuto e Carmelo Salerno. Contestualmente alla nomina dei due nuovi assessori però, due dei sei consiglieri dissenzienti hanno abbandonato il gruppo consigliare che fa riferimento a Forza Italia e hanno aderito al gruppo misto, rimanendo però sempre nella maggioranza consigliare. Si tratta di Davide Bruno e Francesco Spadafora, i quali hanno giustificato questa decisione al fine di dare slancio e continuità alla politica del fare costruttiva al servizio dei cittadini. Una politica inclusiva e partecipativa. Oggi più di tutto, proseguono i due consiglieri, siamo pienamente convinti di quanto sia fondamentale realizzare ad un serbatoio di idee attraverso il quale i giovani in particolare possano riavvicinarsi alla vita politica e amministrativa della città. Da giovani amministratori, hanno dichiarato infine Bruno e Spadafora, riteniamo questo passaggio opportuno e soprattutto stimolante. Un gruppo all'interno del quale daremo linfa ai nostri ideali politici e amministrativi e dove i giovani della nostra città possano trovare terreno fertile per la realizzazione di idee e progetti che diano maggiore impulso è stabilita a quanto fatto sinora.